Cominciamo dall'Ariete. Oggi sarà una bella giornata. Con gli amici sarete intraprendenti e propositivi. Grande vitalità. In amore, con la vostra dolce metà, proverete a riscoprire la carica di feeling che vi ha sempre unito. Toro, evitate di arrovellarvi la mente con mille problemi. Rilassatevi, apprezzate le piccole cose liete del quotidiano. Una buona giornata sotto il profilo sentimentale. Gemelli, la protezione delle stelle limita i danni di certe azioni troppo istintive e azzardate. Non approfittatevene però. Muovetevi con cautela. In amore non ingigantite una piccola e stupida incomprensione. Cancro, oggi le stelle vi consigliano di lanciarvi in ogni iniziativa. In cambio riceverete tutte le conferme e le attenzioni che desiderate. Dinamici e creativi come non mai, sarete al centro dell'attenzione. Leone, oggi disporrete di una grande comunicativa e di una spiccata simpatia che potete mettere in campo nei rapporti con gli altri. Riuscirete a stringere legami che si riveleranno importanti in futuro. Vergine, cercate di reagire positivamente agli eventi inaspettati. Un piccolo contrattempo potrà essere fonte di nervosismo o di divertimento, ma tutto dipenderà da come deciderete di affrontarlo. Bilancia, una buona giornata quella di oggi che consente di vedere un po' di gente e di riallacciare contatti da tempo allentati. È il momento ideale per una rimpatriata con amici di vecchia data, chiarire malintesi e ristabilire l'armonia. Scorpione, mandate avanti le iniziative facendo leva sulla vostra notevole forza fisica e mentale. Le stelle vi sostengono. In famiglia siate fermi e decisi sulle vostre posizioni. Sagittario, è una giornata densa di novità e di colpi di scena. Ideale per concedersi forti emozioni, dedicarsi ad attività di gruppo, competizioni professionali. Capricorno, liberatevi delle troppe tensioni. Svagatevi con buona musica e buone letture. Incontrate gli amici, regalatevi piccoli meravigliosi attimi di quiete. Potete trarre beneficio da qualsiasi attività creativa. Acquario, i sentimenti e la passione caratterizzeranno questa giornata. Se siete single, potrete fare incontri speciali ed emozionanti. Se avete una relazione, il vostro rapporto decollerà sulle ali del romanticismo e dell'eros. Pesci, oggi sarete inquieti e polemici. Ritagliatevi il vostro spazio e il vostro tempo. Cercate scappatoie per evitare questioni lasciate in sospeso. Non è giunto ancora il momento per risolverle. Siate accorti sul lavoro. Alcuni imprevisti potrebbero rivoluzionare e sconvolgere la vostra programmazione. Grazie. 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 Grazie.